In una commedia che mi è capitato di interpretare recentemente, scritta dai medici per i medici e la cui rappresentazione è stata patrocinata, organizzata dall'Ordine dei Medici di Padova, si comincia con una battuta in cui il barone, il responsabile di un dipartimento sanitario, dice al suo assistente, cos'è la medicina, dottor Chiaretto? Mi dica cos'è, cos'è diventata? Con questa domanda mi interrogo anch'io in questo video che faccio con voi, cos'è la medicina, cos'è diventata? E lo dico perché pur vivendo in uno dei luoghi che si dicono ottimali dal punto di vista della qualità dell'assistenza sanitaria, cioè la provincia di Padova, il Veneto, trovo che la medicina sia diventata qualcosa di molto diverso da com'era quando ho cominciato a lavorare io. Sono laureato alla fine dell'anno accademico 1974 e nel 75, all'inizio del 75, ho cominciato a lavorare. Allora, diciamo così, avevamo il miglior sistema sanitario, uno dei migliori al mondo per quello che riguarda l'assistenza pubblica. E per l'assistenza pubblica dico un sistema sanitario al servizio del cittadino che si presentava come qualcosa di gratuito e quindi di usufruibile nello stesso modo per tutti. Quindi rivolto a tutti e senza costi aggiuntivi. Era un sistema sanitario che dava una copertura sanitaria a tutti in tempi, diciamo, reali, almeno al nord dove ho cominciato a lavorare io, compatibili, insomma, in tempi reali buoni, con una buona qualità. Un sistema sanitario, diciamo, che nel mondo si invidiavano e forse dopo proverò a dire qualcosa su perché, insomma, su quali sono le differenze. E la constatazione che mi capita di fare adesso è che quel sistema sanitario non c'è più. L'abbiamo in qualche modo distrutto. La domanda è cos'è diventata la medicina se la possiamo porre. Io comincerei un attimo da lontano questa riflessione e la medicina intanto non è una scienza esatta, insomma, non è come andare dal meccanico, cambiare il pezzo, far riparare la macchina, insomma, anche se poi in realtà neanche tutte le macchine nascono perfettamente uguali, insomma, alcune hanno dei difetti che nessuno poi riesce a correggere. Ma, insomma, non è una cosa automatica. Come si dirà nella commedia che ho citato all'inizio, ogni terapia, per esempio, è di per sé stessa un esperimento. Gli individui non agiscono mai tutti nello stesso modo. Quindi non ci sono delle aspettative assolute che la medicina possa realizzare in maniera assoluta. C'è sempre un margine di errore in quello che si fa, di cui bisogna tenere presente e che bisogna calcolare. Un margine di errore umano da parte del medico, ma anche un margine di variabilità su quello che riguarda l'effetto delle terapie e di quello che succede tra i farmaci che si adoperano o tra gli interventi che si fanno e l'individuo. L'individuo è qualcosa di, per sé stesso, che rappresenta delle grandi variabilità, a seconda di tante situazioni. Non è una scienza esatta. L'errore in medicina è possibile. Quindi non si può eliminare, però si può cercare di ridurlo al massimo. E poi la medicina non è un qualcosa di soltanto tecnico. La medicina riguarda un rapporto tra uomini, tra persone, e le persone si devono parlare. Le persone devono avere fiducia quando stabiliscono un rapporto tra di loro. Il medico si deve poter rivolgere al paziente e il paziente si deve poter rivolgere al medico sapendo che dall'altra parte c'è un essere umano, un altro elemento di un rapporto, quindi di una comunicazione che si stabilisce. E quindi un legame, in qualche modo. C'è un legame che si forma se si vuole che la medicina sia un qualcosa di utile, che la medicina serva. Non può prescindere dal medico e non può prescindere dal paziente. C'è un'unità e questa unità, questa coppia, medico-paziente, deve in qualche modo interagire e quindi deve poter comunicare. Per comunicare il messaggio deve essere chiaro da entrambe le parti e anche le aspettative. Quindi ci deve essere chiarezza. Ma soprattutto quando si stabilisce un rapporto di questo tipo ci deve essere la possibilità di una comunicazione e di una fiducia. Cioè si deve stabilire un rapporto di fiducia tra medico e paziente. Io paziente mi rivolgo al medico perché ho fiducia di quel medico. Se il medico fa parte di un sistema sanitario, ho fiducia in quel sistema, nell'organizzazione di cui quel singolo individuo è un elemento, è un ingranaggio, è un meccanismo. Però il sistema nel suo insieme deve dare fiducia. E quel singolo elemento, anche perché è inserito in quel sistema e quindi si prevede che abbia le conoscenze necessarie, la competenza necessaria, eccetera, eccetera, deve meritare fiducia. E quindi io mi devo fidare del medico a cui mi affido. Se c'è questa fiducia, dall'altra parte c'è la consapevolezza che chi, diciamo dalla parte del medico, c'è la consapevolezza che chi si affida a lui è una persona che si consegna a lui. Si dovrebbe essere una presa in carico, cioè una responsabilizzazione rispetto alla persona, al problema che la persona gli porge, la possibilità di farsi carico di quel problema. Spesso il problema non è un problema isolato, cioè non è che ho perso due capelli e tu mi metti due capelli e siamo a posto. Quando un paziente si rivolge a un medico spesso il problema che gli presenta è la punta, l'emergenza di un iceberg che sta sotto, cioè di un qualcosa di più grosso, di qualcosa di più complesso, che non la singola macchia sulla pelle. Stabilire un rapporto significa, da parte del paziente, fidarsi, avere fiducia del medico con cui si stabilisce questo rapporto, cioè si vuole che funzioni, e quindi la possibilità di consegnare il suo problema, sanitario ovviamente, ma a volte anche umano, insomma, nel suo, tua interezza, nel suo complesso. La parte del medico, quello di responsabilizzarsi del problema, cioè rappresentare una possibile soluzione, o perlomeno una presa in carico di questo problema. Dagli il messaggio, dalle il messaggio al paziente che farà di tutto, che è disponibile ad accogliere il suo problema e a fare di tutto per risolvere il suo problema nella sua interezza. La diagnosi è molto importante, quindi è importante che il medico riesca ad afferrare il problema e a capire cos'ha il paziente, quindi inquadrarlo anche diagnosticamente. Spesso ha bisogno di una diagnosi che sia corretta, però non si può fermare qui il momento, no? Ci deve essere anche una risposta in termini di adesso, cosa si fa, cosa facciamo? E questa risposta in cosa si fa, diciamo, in teoria non potrebbe essere più affidata a una semplice ricetta, a una semplice prescrizione. Spesso, così complessa come è diventata la medicina oggi, la risposta spesso si articola in tante cose. Per capire cosa c'è, spesso c'è bisogno di molta diagnostica, no? E quindi ci sono dei momenti preliminari, no? Che riguardano la diagnostica. E poi dei momenti successivi che riguardano invece il che fare, e anche lì che spesso mettono in gioco diverse altre figure, diverse competenze, non soltanto il singolo farmaco, oppure la gestione di terapie complesse, di farmaci importanti, pericolosi, che hanno effetti collaterali. Un rapporto di fiducia. Il paziente si deve fidare del medico. Se il paziente non si fida del medico, la cosa diventa molto complicata, perché il medico avverte immediatamente la diffidenza del paziente. Anche lui, a sua volta, diventa diffidente nei confronti del paziente. Perché in questo rapporto medico-paziente, o medicina-individuo-medicina, cittadini-medicina, si è inserita anche un'altra componente, che è la legge, che è il diritto. Cioè il diritto che ha il cittadino di essere curato nel modo migliore. E quindi l'illusione che è stata data dai cittadini, dal sistema, l'illusione è che la medicina sia un qualcosa di totipotente, possa tutto. Non sbaglio, o non devo sbagliare. Cioè non è ammesso l'errore, non è ammesso le cose. Si dice nella battuta iniziale della commedia che citavo, il medico si sente sempre sotto l'assedio delle sentenze. Sente di avere una responsabilità, spesso, non solo riguardo al paziente, cioè la responsabilità di fare tutto quello che può, parlo dei medici migliori, insomma, tutto quello che può per affrontare, per venire incontro al problema del paziente. Ma si sente sotto l'assedio delle sentenze, sente che il paziente può rappresentare un pericolo per lui, cioè lo può denunciare. E può denunciarlo a volte perché effettivamente il medico sbaglia, oppure non prende in dovuta considerazione determinate cose che invece dovrebbero essere prese in considerazione, gli sfugge qualcosa nella diagnosi, come spesso succede, o è successo, insomma, come spesso casi di denunce, casi clinici, insomma, di cui abbiamo sentito parlare nei mass media, insomma, no, riguardano mancate diagnosi. Paziente, donna, bambino, morto, perché il medico è andato in pronto soccorso e il medico non si è accorto che, e poi la sera, giorno dopo, quattro giorni dopo, cinque, è morto. Allora è mancata diagnosi, o messa diagnosi corretta, oppure perché magari il medico se ne approfitta, porta il paziente a fare delle cose che invece, diciamo, non servono al paziente, ma servono soltanto al medico per fare quattrini, diciamola in parole povere. Oppure perché il paziente ha delle aspettative che, nonostante tutto quello che può aver fatto il medico, queste aspettative non si sono realizzate, insomma. Cioè, il medico era nell'impossibilità di realizzare delle aspettative che aveva il paziente. Allora il paziente si fa l'idea che non ha avuto qualcosa, che il medico avrebbe potuto fare di più, anche se magari ha dato il massimo, a quel punto la scatta o può scattare la denuncia. E questo è un pericolo che il medico sente molto, soprattutto perché, come si dice in un altro punto della commedia, negli ultimi dieci anni le denunce sono aumentate inesorabilmente. Cioè, il cittadino diventa sempre più rivendicativo nei confronti del medico. Risponde a questa rivendicatività che non riguarda solo, diciamo, errori che si possono fare in maniera più o meno consapevole per quelle che sono le motivazioni, no? Trascuratezza, negligenza, incompetenza. Ma anche quando hai fatto tutto, anche quando hai fatto del tuo meglio, può scattare la denuncia. Anni addietro, che era una categoria di avvocati, no? che stanziava fuori dagli ospedali e quando sentiva che qualcuno moriva individuava i parenti, insomma, del morto, si rivolgevano ai parenti del morto dicendo Eh, vabbè, insomma, ci dispiace intanto per quello che è successo. Se pensi che qualcosa non sia andato nell'assistenza che ha avuto, che qualcosa, quindi, che ci sia una qualche colpa da parte dei medici e se spesso, no, da parte dei parenti uno scontento per qualcosa in qualche fase della gestione di quel malato che poi è morto che non va beh, allora, da questo punto di vista senti, io ti faccio l'assistenza gratis, insomma, no? Denunciamo e poi, insomma, sì, tu non paghi niente se la denuncia non va a buon fine ma invece se vinciamo un eventuale processo insomma e quindi otteniamo un risarcimento danni perché poi la cosa si concretizza sempre in vila moneta allora ci dividiamo il ci dividiamo quello che riusciamo a recuperare la cosa fa sì che i medici soprattutto quelli più esposti si devono coprire con delle assicurazioni che sono abbastanza costose e che quindi anche questo sia un costo che devono sostenere diciamo il rapporto medico e paziente è condizionato anche da questa del fatto che c'è la legge e ci sono le denunce sempre pendenti e quindi la necessità di difendersi da queste denunce da questo che pesa ed ecco quindi che dalla fine degli anni 90 si sente parlare di medicina di difesa cos'è la medicina di difesa è qualcosa che fa sì che i medici mettono le mani avanti percependo questa mancanza di fiducia mancanza di affidamento da parte del paziente perché anche loro non è che fanno di tutto per meritare questa fiducia ovviamente giocandosi queste cose essendo venuta meno la capacità di affidarsi da parte del paziente al medico e il medico percependo questa mancanza di fiducia da parte del paziente spesso anche perché se la merita mette le mani avanti e quindi o fa il meno possibile o cerca di chiedere esami che spesso sono inutili o altre consulenze in modo tale che il livello di responsabilità si sposti sempre a qualcun altro finché arriva l'ultimo anello della catena dove uno in qualche modo la responsabilità se la deve prendere ma c'è questa modalità di comportamento di responsabilizzarsi sempre meno di prendersi sempre meno carico della totalità del problema del paziente e di per ogni singolo elemento di quel problema no si cerca di individuare un'altra figura competente si cerca sempre di essere sempre meno competenti per quello che riguarda la globalità prendersi il minimo di responsabilità e il resto delegarlo sempre ad altri altri esami altre consulenze altre visite insomma tutto tutto uno spostare in avanti esami sempre più complessi sempre più difficilmente anche affrontabili del paziente il quale spesso è spaesato in questa da questi accertamenti che non capisce quindi si può stare sempre in là questo cosa comporta comporta ovviamente un frazionamento intanto il paziente è diviso tante figure professionali e quindi non sa più qual è il suo referente fondamentale perché c'è anche questo poi no che non c'è più o è molto difficile trovare il medico che poi si fa carico nella totalità del tuo problema cioè che ti porta avanti il tuo problema cioè che una volta che ti ha chiesto anche tanti esami tante viste poi faccia la sintesi e si impegna a curarti spesso c'è sempre un rimandare ad altre figure ad altre cose quindi quello che ne risulta è che il paziente si sente disperso non c'è più chi tira le fila non c'è più adesso cosa facciamo che gli dici con sicurezza fai questo fai questo fai questo poi quando hai fatto questo vieni da me e ti dico cos'altro fare se questo va bene allora facciamo così se questo va male allora facciamo colà questo non si rende c'è questa sensazione di dispersione di andare non si sa cosa succederà intanto facciamo questo poi quell'altro poi comporta un grandissimo aggravio di costi esami sempre più costosi esami a volte invasivi quindi che possono creare dei problemi per conto loro esami che possono fare produrre per se stessi patologia esami per cercare di mettere avanti le mani sulla pericolosità di altri esami e così via quindi la medicina diventa sempre più costosa ma oltre a questo siccome poi il paziente stesso spesso viene rassicurato chiedendo altri esami cioè se ha poca fiducia nel medico magari tende a fidarsi di più degli accertamenti se li vuol far fare e allora tutto questo visite ed esami comporta poi un allungamento dei tempi di attesa si fanno molti esami inutili e quindi per poter fare un esame che magari potrebbe essere utile bisogna aspettare molto tempo e qui diventa il problema dell'intasamento e questi esami non si non si riescono ad avere e quando si sta male si ha fretta di fare l'esame allora il pubblico a questo punto non te li dà in tempo utile o non te li dà dove ti aspetti di averli insomma nell'ospedale vicino a casa tua magari devi andare lontano per farli e devi avere dei tempi spesso molto lunghi e allora cosa si fa? Si va privatamente no se la medicina pubblica non è più in grado di sostenere questo questo tipo di prestazioni o questa quantità di prestazioni deve andare nel privato ed ecco che sto accorgendo insomma che anche nel Veneto in cui quando ho cominciato a lavorare io non c'erano strutture private praticamente non esistevano tutto veniva fatto gestito a livello di medicina pubblica e gratuita diciamo che quando ho cominciato a lavorare io non esistevano neanche i ticket insomma non esistevano i cup che sono il centro unico prenotazione per cui se uno stava male veniva direttamente in pronto soccorso e lì in pronto soccorso in qualche modo veniva visto urgentemente dallo specialista che veniva individuato e riceveva comunque già le prime cure oppure diciamo i medici di base quelli c'erano i medici di base non lo so non posso dire se erano più preparati di quelli che sono oggi però insomma erano c'erano dei medici di base che spesso si prendevano carico conoscevano i loro pazienti si prendevano carico di questo paziente cosa che mi accorgo è fatta sempre meno adesso e quindi la risposta era abbastanza pronta insomma era abbastanza insomma il massimo lo si trovava nelle strutture pubbliche e quindi non c'era bisogno nel Veneto almeno insomma da quello che ricordo io di strutture private o ce ne erano molto meno molto molto meno cosa è successo invece negli ultimi anni che mi sto accorgendo che sono sorte una quantità enorme anche qui di strutture private proprio penso in seguito a questa diciamo incapacità del pubblico di far fronte a tutta questa mole di prestazioni però detto così sarebbe troppo semplicistico nel senso che non è che la medicina pubblica non abbia fatto la propria parte anche come sistema come strutture insomma per arrivare a questo quello che era la medicina pubblica 50 anni fa diciamo cioè qualcosa di accessibile immediatamente aperto a tutti la quantità di posti letto che c'erano a disposizione non soltanto per la malattia acuta insomma per la prestazione urgente diciamo era molto maggiore la quantità di posti letto la disponibilità di struttura della medicina pubblica era molto maggiore di quella che c'è adesso anche se non sembra se può non sembrare insomma il reparto dove lavoravo io un reparto di neurologia aveva 60 posti letto diciamo così ma poi questi 60 posti letto diventavano anche 70 75 cioè si mettevano i letti bis insomma quando c'era bisogno e si riusciva quasi sempre a trovare un posto se non c'era un posto in quel giorno il paziente che aveva la necessità di essere ricoverato magari veniva tenuto gli si trovava un posto in medicina e poi il giorno dopo lo si trasferiva appena se ne liberava uno lo si trasferiva al reparto da noi e soprattutto che arrivava in reparto con un problema acuto mettiamo con un ictus non andava a casa la settimana dopo appena fatto gli esami appena detto che hai un ictus ma durante il ricovero riceveva anche tutta l'assistenza necessaria in pazienti di questo tipo e veniva messo nella condizione di avere il massimo del recupero possibile anche dal punto di vista funzionale in ambito diciamo in ambito di ricovero e veniva mandato a casa quando era nelle condizioni migliori per poter andare a casa cioè quando aveva recuperato il massimo che si poteva recuperare insomma almeno in un tempo medio-lungo non si poteva tenere un anno però due mesi un malato che aveva un defici che aveva una paralisi veniva tenuto per poter fare anche la rieducazione funzionale insomma e aveva tutte le assistenze ma nel frattempo tra l'altro in quel frattempo quel paziente magari anziano aveva una serie di altri problemi che andavano indagati faceva tutti gli accertamenti in ambito di ricovero quindi gratuitamente tutti gli esami necessari in modo tale da affrontare non solo il problema principale per cui l'ha stato ricoverato ma anche cercare di risolvere anche con l'aiuto di altri specialisti eccetera eccetera anche altri problemi che poteva presentare spesso le patologie non si presentano uniche soprattutto nell'anziano in cui c'è una pluripatologia quasi per definizione insomma la geriatria è una specialità che sarebbe appunto deputata ad affrontare la pluripatologia dell'anziano quindi tutti i problemi che sono relativi connessi insomma con la vita dell'anziano con le malattie che poi riguardano la terza età questa cosa qui adesso è difficile immaginarsela perché dove prima c'erano 60 posti letto magari ce ne sono 15 ce ne sono 20 il personale è aumentato ma i pazienti dopo una breve quantità di tempo vengono rimandati a casa comunque siano perché perché sono intervenute tutta una serie di modificazioni di leggi di cose intanto sono intervenute i ticket e poi sono intervenuti per esempio i DRG cioè che sono i tempi in cui uno può rimanere ricoverato per il rapporto alla diagnosi con cui viene ricoverato cioè è previsto che se per esempio uno ha un appendicite possa avere che so io quattro giorni di ricovero ecco se viene tenuto di più di quattro giorni praticamente i fondi non vengono più dati alla struttura insomma e quindi c'è una perdita e quindi c'è un interesse da parte di chi dirige la struttura di fare in modo che il paziente non stia più di tanto tempo poi i letti essendo molto diminuiti quindi giustificano questo e quindi si dice non abbiamo possibilità non abbiamo disponibilità di posti letto c'è niente da fare se i letti erano 60 70 per lo stesso territorio adesso sono 15 è chiaro che insomma c'è chi deve star fuori non c'è modalità perché poi questo riguarda anche tutti gli altri reparti sono intervenute poi tutta una serie di altre norme che riguardano l'aziendalizzazione ma il sistema sanitario funziona a prestazioni i contributi si ricevono per le prestazioni ma la prestazione di per sé non vuol dire salute insomma uno può fare 100.000 visite e non trovare una risposta del problema che ha uno ne può fare una sola e trovare chi invece si prende carico del suo problema e trovare la risposta a questo problema quindi non sono il numero degli esami e il numero delle viste che creano la bontà non è il numero di prestazioni insomma che vuol dire che che l'assistenza sanitaria funziona bene è la qualità di quello che si riceve è la risposta che si dà al problema che il malato ti pone tu puoi rispondere a quel problema con centinaia di esami di viste di cose così ma poi il malato rimane come era prima e quindi tu hai fatto tante prestazioni quindi insomma sarai ben valutato dal punto di vista dei parametri regionali eccetera eccetera la tua struttura verrà finanziata ma non è che hai fatto bene il tuo compito nei confronti hai fatto hai svolto diciamo qualcosa che produttivamente nel campo economico nel campo mercantile funziona perché si pagano le prestazioni quindi le prestazioni sono la merce il resto no perché poi la qualità delle prestazioni è anche difficile a misurarla se deve essere rappresentata proprio sulla su cosa su come il paziente ha avuto una risposta al suo problema insomma e quindi è riuscito a guarire diciamo così della sua patologia nel modo più breve e nel modo migliore con minor costi possibile diciamo la struttura pubblica è cambiata in questo senso è diventata da un qualcosa che non era così strettamente aziendalizzato perché non si può fare una fabbrica fabbricare fare un'azienda sulla salute la salute è un bene che non può essere mercificato invece se lo abbiamo mercificato e come lo quantizziamo come facciamo della merce di un prodotto di questo bene lo facciamo misurando le prestazioni misurando le prestazioni e quindi attribuendo un costo e un valore ad ogni singola prestazione quindi la medicina pubblica adesso fa molte più prestazioni e quindi riceve consuma molti più soldi spende molto di più ma non è che questo poi ha un ritorno in salute anzi spesso il contrario ha un ritorno nel fatto che il malato è spaesato e non trovando spesso poi la possibilità di rivolgersi al pubblico anche se questo ha un costo adesso insomma no perché è un attimo andare in pronto soccorso a spendere 80-100 euro di ticket soltanto poi per non avere niente in cambio dal punto di vista di risposta al problema ma ma trovando bloccati trovando i tempi di attesa lunghi trovandosi di fronte a un sistema molto burocratizzato cioè trovandosi di fronte a tutta una serie di di segretarie che lavorano i telefonisti che lavorano al cup di sportellistiche che stanno al cup che ti danno la disponibilità e che ti mandano in tanti posti diversi anche del tuo territorio che ti fanno presente come sia impossibile avere la prestazione in tempi in tempi accessibili ecco si trovano di fronte a un sistema bloccato quello che una volta era possibile fare da parte del cittadino insomma io inizi quando lavoravo io o uno veniva direttamente in pronto soccorso e quindi poi veniva mandato oppure telefonava la segretaria di reparto e chiedeva di poter parlare con il dottor X e la segretaria di reparto diceva al dottor X che questo lo aveva cercato e li metteva in contatto oppure telefonava alla caposala insomma chiedeva di parlare con il dottor Zanardi e con il dottor Zanardi il dottor Zanardi veniva chiamato e diceva che c'era una chiamata per lui al telefono e se uno aveva un problema urgenza e così insomma tu gli parlavi e dopodiché o gli fissavi un appuntamento l'ambulatorio insomma in qualche modo c'era la possibilità di una comunicazione di un contatto ecco la comunicazione questo contatto adesso non c'è più adesso voi cercate di andare verso la struttura sanitaria e le strutture sanitarie tra l'altro ci sono anche molto presenti anche in rete in inter sono bei portali con tante immagini ospedali eccetera eccetera ma se voi cercate un telefono non lo trovate trovate soltanto come dire un ufficio prenotazioni e l'ufficio prenotazioni spesso vi dà quindi non potete mai rivolgervi direttamente magari al medico con cui vorresti parlare o vorresti magari far presente il problema che avete e cercare il tempo migliore per poter avere una visita una prestazione molto più difficoltà nella comunicazione adesso rispetto a 40-50 anni fa molta più difficoltà e questa difficoltà di comunicazione che è anche proprio la difficoltà di entrare in contatto con la struttura o con un operatore di questa struttura è una cosa che già suscita una certa aggressività nel paziente in chi ha bisogno in chi sta male quando magari dopo un mese dopo due mesi arriva finalmente a che così ha già dentro di sé una certa dose di aggressività che lo scarica evidentemente sul medico che c'è lì che raggiunge quel momento il quale è già pronto a prepararsi a difendersi ecco allora che il rapporto di fiducia quello per cui ti devi fidare del medico che hai davanti e il rapporto e la capacità poi del medico di prendersi carico viene a mancare ormai vediamo che difficilmente si trovano medici capaci di prendersi carico per intero del tuo problema no? ci sono tante belle ma non solo sui portali ma anche su facebook sono tanti medici ormai che mostrano le cliniche gli strumenti si mostrano con il babalino si mostrano con tutta una serie di cose no? c'è un'immagine un immaginario che viene creato come se quello fosse o garantisse le cose però ormai si è spostato tutto anche in luoghi di eccellenza sul privato molte prestazioni non sono più accessibili pensiamo anche alle prestazioni di fisioterapia alle prestazioni di che so io tutte quelle che hanno necessità anche delle macchinette delle cose insomma vengono tutte gestite e deviate nel privato e quindi il privato è cresciuto molto in questi termini e il privato ha bisogno di promuoversi no ha bisogno di promuoversi e usa gli strumenti di promozione del mercato insomma la più bianca pubblicità insomma voi andate in qualsiasi posto guardate i medici insomma no? guardate guardate cosa cosa succede come si come si mostrano i medici nella nella rete insomma no? il curriculum le cliniche private in cui operano non dicono i costi e poi le valutazioni i punteggi le stelline no? le stelline magari curando di mettere in evidenza le cinque stelline e curando di nascondere la stellina singola che sono tutte le modalità di di farsi la pubblicità dei piccoli commercianti di quelli che commerciano anche sulla rete insomma no? e quindi la medicina è diventata una è diventata un commercio è diventata un vendere prodotti di un qualche tipo visite esami diciamo specializzazioni su microtecniche no? cioè si cerca di avere il proprio la propria nicchia sapendo fare una cosa particolare magari non so sulla cui utilità c'è dubbio ma insomma specializzandosi a fare quella piccola cosa quel tipo di e quindi sempre una maggiore settorializzazione sempre una maggiore ultra specializzazione no? pensiamo agli ortopedici l'ortopedico del piede l'ortopedico della mano l'ortopedico della spalla l'ortopedico del ginocchio l'ortopedico dell'anca no anche qua molte ultra specializzazioni che per carità possono essere anche utili ma poi se uno vede solo quello e deve fare l'ambulatorio divisionale ma lui si occupa del ginocchio gli viene uno con un problema alla spalla questo qui magari deve aspettare un altro mese per avere l'altro ortopedico che lo visita per il problema alla spalla no? tutta una serie di che io penso che tutti voi avete provato se avete rapporti adesso con 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 la sanità pubblica insomma no? e come ci sia questa spinta al privato insomma no? per avere per avere prestazioni in tempo accettabili oppure anche come unica possibilità per avere un certo tipo di prestazioni e come quando poi andate sul privato difficilmente trovate il medico che si prende la responsabilità del vostro problema cioè trovate quello che riguarda il neo ma non vuol saperne di tutto il resto insomma e quindi il vostro scontento e poi c'è anche l'altra cosa un po' no? che che ormai la gente è abituata ad andarci a guardare su internet insomma no? e quindi pensa già di di sapere quando va dal medico no? per cui diventa più difficile in qualche modo affidarsi una volta credo che era più facile perché tu medico eri una figura diciamo quasi sacrale no? era una figura che rappresentava la conoscenza e l'altro non sapeva niente quindi si affidava alle tue conoscenze tra l'altro una volta c'era anche questa cosa che che tu eri sì un singolo ma lavoravi in un ambito ospedaliero sempre all'interno di un gruppo e questo gruppo poi si confrontava con gli altri specialisti dell'ospedale oppure con specialisti esterni cioè su un ospedale diciamo periferico provinciale tu avevi magari o il consulente oppure ti andavi a consultare con con l'università per esempio quindi c'era questa rete di rapporti per cui la prestazione che tu avevi anche in un ospedale periferico grosso modo ti garantiva sulla qualità di quella prestazione perché c'era un confronto del singolo con gli altri membri dell'equip dell'equip poi con con gli altri specialisti del confronto continuo fattivo insomma in tempi reali e poi un confronto anche con le strutture universitarie insomma quindi c'era questa rete di confronto e quindi la prestazione che tu avevi da quel singolo medico era la prestazione insomma media che avresti potuto ricevere e che quindi ti dava una certa garanzia di validità e tu medico eri diciamo il referente ma era più facile per te avere la fiducia perché veniva una persona che non sapeva niente no e quindi quello che tu gli dicevi spesso era orocolato e stava nella tua responsabilità poi di dirgli le cose nel modo migliore di aver fatto tutto nel modo migliore ma era più facile perché avevi dall'altra parte una persona che era disposta ad affidarsi allora se tu accogli questa persona che è disposta ad affidarsi che ti dà fiducia tu cerchi di meritarla questa fiducia no e quindi tu rivolgere cercavi di farti carico del problema di quell'altra persona cioè di non soltanto di arrivare a una diagnosi e di prescrivergli come dire in sequenza no gli esami da quelli più semplici ma magari che fossero i più utili a quelli più complicati e non lo facevi solo perché volevi toglierti la responsabilità diciamo così di non sbagliare cioè volevi toglierti il pericolo della legge no medicina di difesa ma lo facevi secondo quello che era il criterio di fare la cosa più giusta e quindi di fare la procedura più più giusta e più conveniente per il malato ma anche quando arrivavi poi alla diagnosi cercavi di prenderti carico del problema di quel malato quindi cercavi di fare in modo che gli esami che doveva fare oppure le ulteriori viste oppure non so se c'era un problema chirurgico insomma no di prendere tu contatto con il chirurgo e quindi già di fissargli gli appuntamenti e poi di farlo ritornare in modo di chiudere il cerchio insomma no di fare il punto sulla situazione e di fare tutto quello che era possibile quindi il paziente aveva una persona di riferimento qualcuno che a volte era il medico di base stesso anche i medici di base una volta riuscivano come ho accennato prima ad essere più un punto di riferimento cioè a fare la sintesi poi anche di quello che era il risultato delle varie visite specialistiche che magari facevano fare i loro pazienti e poi di gestirli e c'era un contatto anche molto più frequente tra i medici di base e gli specialisti diciamo ospedalieri oppure cioè il medico di base quando aveva un problema per un paziente c'è questo qua che sta male ti telefonava ti chiamava e ti diceva guarda cosa faccio non lo so fai così se era abbastanza preciso la descrizione oppure mandamelo domani lo vedo dopo domani venga in ambulatorio divisionale e lo vedo ma tu vedevi un paziente che era già stato in qualche modo inquadrato dal suo medico di base si era già preso carico lui di quel paziente quindi come dire sapevi che questo paziente aveva qualcosa sapevi che non facevi una visita inutile come tutte quelle che si fanno appunto per problemi di medicina di difesa no che si chiedono visita inutile soltanto per togliersi la responsabilità faceva una visita mirata e il medico di base comunicava con il medico ospedaliero adesso non c'è più questa comunicazione almeno per quello che mi risulti forse da qualche parte ci sarà ma come sistema questo di prendere in mano il telefono e di chiamare da parte del medico di base l'ospedale non c'è più anche perché forse l'ospedale risponde picchi al medico di base tra l'altro piccola parentesi insomma no tanto per dire la differenza una volta c'era una specie non so chiamiamo etica professionale ma c'era una cosa per cui insomma se tu andavi a farti visitare da un collega se tu chiedevi insomma un parere a un collega così non pagavi cioè che tra colleghi non si pagavano le prestazioni anche se andavi privatamente insomma privatamente i colleghi non si facevano pagare adesso invece si fanno pagare anche i colleghi non c'è più neanche una discriminazione in questo insomma no succedono non solo tra i medici cioè voglio dire lo spirito è diventato molto più quello di di concorrenza come è successo poi come sta succedendo in tutte le altre professioni insomma no ne parleremo anche di questo l'indisponibilità del pubblico aziendalizzazione modalità di lavorare aziendali che non sono proprie di una medicina che sia degna di questo nome e poi grande crescita del privato assedio delle sentenze paura del giudice no quindi intervento della legge sempre più forte nella medicina e poi rimane anche questa commistione un po' tra il privato cosa succede per esempio in questa chiusura che tu trovi questa barriera che tu trovi quando vuoi quando hai un problema e vorresti ricorrere a una prestazione ospedaliera urgente perché magari hai un male forte insomma hai bisogno di trovare una risposta in tempi adeguati capisci che non puoi entrare nel privato trovi spesso prestazioni ultra specialistiche o prestazioni che poi non ti danno una garanzia per risolvere il tuo problema e allora magari vai a guardare quelli che sono le figure magari più come dire più quotate dal punto di vista professionale per quel tuo problema allora queste figure le più quotate sono quelle che magari sono primari in ospedali vari da qualche parte e allora però questo primario spesso non non visita in ospedale cioè tu non riesci ad arrivare a questo primario con la tua visita e con il ticket diciamo così hai bisogno di andare privatamente quindi tu se magari devi essere ricoverato in quel in quel reparto dovresti essere ricoverato per il tipo di patologia che hai insomma non puoi prescindere di andare a visita privata da questo primario il quale poi insomma a sua discrezione deciderà se assegnarti un un posto in tempi utili e quindi scavalcando magari altri che che vengono dal pubblico e quindi di darti un posto prima nel suo reparto perché tu sei andato a visita privata da lui e l'hai pagata anche in maniera abbastanza consistente la sua visita nel resoconto del 2017 leggo dal Corriere del Veneto cresce il malcontento dei pazienti si parla dell'ospedale di Belluno ma anche quello degli operatori ospedalieri la relazione annuale sul San Martino che è l'ospedale di Belluno da parte della cittadinanza attiva tribunale del malato di Belluno non è incoraggiante per il 17 le segnalazioni che abbiamo ricevuto dicono che è aumentato il malcontento al cittadino che prenota una visita a Belluno in quanto residente nel capoluogo il CUP sempre più spesso propone di eseguire la prestazione negli ospedali di Agordo o di Pieve e di Cadore e se questo per lui è il modo per abbattere le liste di attesa che va bene per il cittadino diventa un problema qui non siamo in pianura per raggiungere dal capoluogo gli altri ospedali serve del tempo dai 45 minuti in su se poi si pensa che la maggior parte dei pazienti sono anziani si capisce come sia difficile raggiungere le zone più alte della provincia dovendo i pazienti chiedere l'aiuto di parenti amici o delle associazioni di volontariato andando così ad aggiungere ulteriori costi per lo spostamento questa scelta aziendale viene aziendale questa scelta aziendale viene vissuta dal paziente come un depotenziamento dell'ospedale hub di Belluno un cittadino che si sente mandare ad Agordo o a Pieve pensa che a Belluno quelle specialità mediche non ci siano e in realtà alcune non ci sono proprio poi ci viene segnalata anche la mancanza di una vera collaborazione tra il dirigente di un reparto e i suoi collaboratori e la mancanza di dialogo con i medici sia dell'ospedale che di medicina generale molto spesso se uno chiede un controllo al suo medico di famiglia si sente rifiutare la proposta cittadinanza attiva parla anche di aumento del mai contento degli operatori sanitari no cosa dicono gli operatori sanitari tutta colpa della carenza di personale della riduzione dei posti letto e dall'accolpamento dei vari reparti capisco che l'ospedale sia riservato sempre più alla cura degli acuti ma a fronte di una mancanza di strutture intermedie tra casa e ospedale il paziente è lasciato in carico alle famiglie costrette ad affrontare altre mille difficoltà tra cui anche quelle economiche per questo nell'ospedale ci vorrebbero dei posti letto per la riabilitazione da eseguire prima del ritorno a casa del paziente cosa che invece prima si faceva adesso ci vorrebbe ma l'hanno tolta e poi cosa dire delle difficoltà dell'ambulatorio di neurochirurgia segnalazioni sono arrivate anche per i laboratori di analisi bene che ci sia la possibilità di prenotare la giornata per il prelievo del sangue e che questi abbiano anche una corsia preferenziale ma questo non può andare a scapito di chi è in coda senza aver prenotato gli ispettori della regione da ieri stanno controllando i registri delle visite in regime privato dei professionisti dovrà essere verificata tutta l'attività anche attraverso le strutture private accreditate gli ispettori valuteranno la congruità dei tempi di attesa dei rispettivi pazienti per scongiurare che sia stato regolare cioè che nessun camice bianco abbia approfittato della doppia casacca per visitare ambulatorialmente in extramenia assistiti che poi nel pubblico abbiano ottenuto una qualche corsia preferenziale magari indicando come molto urgenti operazioni che in realtà non lo erano beh mi fermerei qui per adesso aspettando anche magari di aprire una discussione con voi nei vostri commenti di aprire una di aprire una di aprire una